E voltiamo pagina, torniamo a Pisticci dove Altra Agricoltura ha inaugurato oggi il Lido Momori, battezzato così con un pizzico di sarcasmo per ricordare le tante promesse non mantenute quanto a gestione dell'emergenza idrogeologica. Nel Metapontino, in diretta da Pisticci, c'è Luigi Di Laura. A te Luigi. Sì, Emanuele, è proprio in Riva al Lago che si sta svolgendo l'assemblea del comitato difendiamo le terre ioniche, assemblea che ormai ha le ultime battute, sentiamo cosa ha deciso. Adesso il Lago Momò assume le seguenti decisioni, di chiedere alla Regione Basilicata lo stanziamento di 27 milioni di euro per rifondere i due terzi dei danni accertati ai privati colpiti dalle ultime tre alluvioni, di chiedere alla Regione Basilicata la convocazione nel più breve tempo possibile di un'iniziativa per dare vita a un contratto delle foci come strumento di governo partecipato e per la prevenzione delle alluviosi. Il comitato dà inoltre mandato al suo coordinamento di depositare presso la Corte di Cassazione la legge di iniziativa popolare per il bonus terra finalizzato alla messa in sicurezza idrogeologica alla bonifica delle aree inquinate a sostegno dei progetti di tutela agroecologica. Sin qui le decisioni dell'assemblea del comitato difendiamo le terre ioniche proposta che adesso viene messa ai voti e approvata all'unanimità ma è stata una giornata intera di mobilitazione che ha coinvolto anche le altre regioni del Sud Italia proprio per parlare di inquinamento e di temi legati all'ambiente e al dissesso idrogeologico. Con me c'è uno dei rappresentanti del comitato della Terra dei Fuochi una vertenza che diventa unica per tutto il mezzogiorno. Oggi qui nasce un percorso nuovo, un percorso dove i comitati per la difesa delle terre ioniche i comitati di Tarantini, la Puglia, la Calabria veicoleranno tutte le vertenze ambientali locali in un'unica grande vertenza ambientale in un'unica piattaforma. Ecco, queste comunità dovranno riappropriarsi di questi territori per anni devastati, violentati da una cattiva politica e dal malaffare. C'è già un appuntamento? Sì, a breve, fra una quindicina di giorni, ci rivedremo di nuovo qui in Calabria in Basilicata, tutti qui in Basilicata. E invece per quanto riguarda le alluvioni, Gianni Fabris abbiamo sentito le decisioni approvate all'unanimità dall'Assemblea il tempo delle promesse è finito, ci pare di capire. Sì, noi ancora una volta dimostriamo capacità di proposta abbiamo avanzato una piattaforma precisa, una serie di proposte tecniche e strategiche è il momento di mantenere gli impegni e diciamo al Presidente Pittella che li aspettiamo nei prossimi giorni. Noi da oggi iniziamo una fase nuova da oggi inizia con anche il deposito della legge iniziativa popolare una fase nuova per il Comitato ma una cosa è certa il Presidente Pittella mantenga gli impegni l'accordo sui risarcimento e soprattutto la convocazione degli Stati Generali sulla messa in sicurezza dei fiumi. se gli impegni saranno rispettati noi saremo insieme ai cittadini pronti ad applaudire altrimenti passeremo a una nuova fase di lotta. Prima di chiudere, questo è uno dei luoghi simbolo di questa protesta qui si raccorgono la emergenza alluvioni, emergenza ambientale, inquinamento e Pisticci è presente con chi rappresenta le associazioni ambientaliste. Sì, noi associazioni del territorio abbiamo costituito il forum ambientale permanente che come prima iniziativa si è proposto quello di affrontare il tema dell'inquinamento in Valbasento racchiuso, il suo approfondimento è stato racchiuso in un documento che si chiama Valbasento Sostenibilità Esaurita che parte proprio dalle considerazioni che quest'area è un'area sin, inquinata che necessita di interventi di bonifica, di tutela e salvaguardia. Bene, allora con queste parole dei rappresentanti del Comune di Pisticci vi restituiamo la linea ovviamente continueremo a seguire questa vertenza legata all'ambiente e al distesto idrogeologico. A te la linea Manuela. A te la linea Manuela.